Storia della razza. Bello ma resistente come un chiodo, il cardigan Vesh Korgi prende il nome da legno medievale del cardigan Shire, in Galles, ed è la più antica delle due razze di Korgi della KC. In effetti, sono una delle più antiche razze britanniche. La parola Korgi, originariamente Kergi, significa cane nell'antico celtico, e gli storici ipotizzano che gli antichi Korgi furono portati dall'Europa centrale al Galles dai Celti durante le loro masicce migrazioni in Gran Bretagna intorno al 1200 ac. Tuttavia, possiamo dire con una certa certezza che le mandrie di Korgi erano branchi di gallesi mille anni fa. I cardigan hanno le zampe basse per grafiare meglio i talloni del bestiame ed evitare di scalciare. Il cardigan regolabile ha svolto un doppio lavoro sulle lunghe distanze, spostando la mandria durante il giorno e fungendo da guardiano della mandria di notte. Nel corso della lunga storia della razza, i cardigan hanno lavorato in vari momenti, come versatili cani da fattoria, compagni di caccia, protettori della famiglia e atleti. I cardigan sono stati a lungo associati agli agricoltori britannici, affittuari, che dipendevano dai loro cani. Un tempo cardigan e pembrochi si riproducevano liberamente, e fino al 1934 erano considerati un'unica razza nel Regno Unito. Il primo paio di cardigan tribali arrivò negli Stati Uniti nel giugno 1931. Quattro anni dopo, la AKC ha riconosciuto la razza in pieno. Una razza di cani da pastore, i cui antenati, erano probabilmente cani di kingi, introdotta in Gran Bretagna alla fine del primo millennio. Sono animali molto resistenti, intelligenti, obbedienti, completamente devoti al proprietario. Ottime sentinelle, sono estremamente diffidenti nei confronti degli estranei. A differenza di molte razze di pastori, vanno d'accordo negli ambienti urbani. Può essere aggressivo nei confronti degli altri cani. Punti salienti e fatti interessanti. Il cardigan Vesh Korgi è stato riconosciuto dalla AKC nel 1935 insieme all'Alaskan Malamute e all'Asa Azzo. Il cardigan Vesh Korgi, a differenza del pembroche, ha la coda. Il cardigan discendeva dalla stessa linea di cani del Bassotto. Il cardigan Vesh Korgi è la più vecchia delle due razze di Korgi, ed è una razza separata dal pembroche. Il cardigan Vesh Korgi è conosciuto nella zona omonima da oltre 3000 anni. L'obiettivo del Korgi, era mordere i talloni del bestiame e radunare la mandria in una stalla. Aspetto? Il Vesh Korgi è un piccolo cane alto una trentina di centimetri, e che pesa fino a 14 kg. Esistono due tipi principali di Vesh Korgi. Pembroche e cardigan, che sono piuttosto diversi l'uno dall'altro. Quindi, ad esempio, il pembroche è leggermente più piccolo, e queste specie hanno anche una diversa forma della testa, e la struttura degli arti toracici. Le zampe del cardigan, sono leggermente più lunghe, si distinguono per una serie specifica degli arti anteriori, ripetendo la forma del petto, che le rende più manovrabili nel lavoro con il bestiame. Petto largo, testa nobile e dorso dritto e fermo. Essi personificano forza e nobiltà, potenza ed efficienza. I pembroche rossi e bianchi hanno un mantello dorato e brillante, macchie bianche sul muso, sul petto e sulle zampe. I pembroche sono disponibili anche in tricolore nero. Il muso sembra più una volpe. A causa dei tratti contrastanti della bocca, molte persone pensano che i pembroche stiano sorridendo. Occhi marroni. Bel corpo robusto, gambe corte e forti con angoli ben definiti. Si ritiene che i pembroche differiscano dai cardigan per l'assenza di una coda, ma questo è un errore. I pembroche non nascono sempre con il bottail, a volte le loro code sono ancorate. Dalla fine degli anni Ottanta, quando alcuni paesi hanno introdotto divieti di attracco, sono comparsi sempre più pembroche dalla coda, che li hanno fatti assomigliare più alle volpi. Naturalmente, quando hanno smesso di tagliare la coda, molti allevatori hanno scoperto un'ampia varietà di pembroche nella qualità della coda, perché questo non è stato rintracciato in passato. Il loro sottopelo è corto, resistente all'umidità, il pelo è lungo circa quanto quello di un cane da pastore, setoso al tatto, e di ottima lucentezza. Il colore di tali cani può essere bianco-rossastro, tricolore, nero, bianco più bruno-rossastro, nero, cervo, i cardigan hanno un colore tigrato. Ci sono regole rigorosamente stabilite per il colore della loro pelliccia, non ci sono solo corgi gallesi bianchi. Negli ultimi anni, a causa della crescente popolarità della razza, è aumentato il numero di compagni commerciali e allevatori senza scrupoli, il che ha portato a una diminuzione della qualità del bestiame. C'è anche una tendenza ad aumentare di dimensioni e peso, soprattutto tra i maschi. In tali cani, a causa di un aumento della massa del torace, e della testa con gambe invariabilmente corte, la mobilità diminuisce, la produttività dei movimenti si deteriora, le qualità lavorative diminuiscono, e possono anche insorgere problemi di salute. Tratti distintivi del carattere. I corgi sono leali, amano con ansia la famiglia del loro proprietario. Sono fedeli a tutte le persone e agli altri animali, vanno facilmente d'accordo con i gatti. Trattano i bambini molto calorosamente, specialmente i piccoli, li vegliano e li proteggono. Sopportano con calma la vita in città. Si adattano al clima senza troppe difficoltà, ma a causa del sottopelo molto spesso, si sentono meglio con il freddo che con il caldo. Questo è un cane molto allegro e agile. I corgi amano giocare e richiedono continuazione se il proprietario decide di terminare il gioco. Mantengono ottimi rapporti con tutti i membri della famiglia, senza mostrare chiaramente la loro preferenza. Allo stesso tempo, con coloro che non vogliono accettarli, mantengono le distanze. Sanno esattamente quando possono venire ad accarezzare, quando è meglio non essere visti, quando è possibile essere capricciosi e quando è richiesta loro piena dedizione. Pembroke, Veskorgi e Cardigan hanno un carattere simile, ma ci sono differenze. Ad esempio, sia il Cardigan che il Pembroke sono cani amichevoli, di buon carattere, attaccati al loro proprietario, equilibrati, molto affascinanti, ottimi compagni, dotati anche di tatto e persino senso dell'umorismo, che si nota nello standard di razza chiusa parentesi tonda. Ma, a differenza del Pembroke, il Cardigan è più calmo, più giudizioso e più attento, e il Pembroke è più eccitabile, vivace e sensibile. In termini di apprendimento, questa razza non può che essere inferiore al Border Collie. Memorizzare un comando dalla seconda o terza volta non è raro, ma la norma. Pembroke si impara facilmente, e con interesse i numeri del circo, partecipa all'agilità, al fliballe e ad altre competizioni. Tuttavia, non è raro anche studiare le abitudini dei proprietari e utilizzare le conoscenze acquisite nei loro interessi canini. Allo stesso tempo, malizia e rancore, di regola, sono assenti in linea di principio in questa razza. I Veshcorgi sono inclini a mangiare troppo, quindi questa razza è controindicata per un proprietario volitivo. Devi avere la forza di resistere al fascino e all'astuzia dei mendicanti più affascinanti. Altrimenti, il cane può facilmente trasformarsi in una creatura sedentaria sovralimentata. La maggior parte dei Veshcorgi non è incline ad abbaiare per nessun motivo. Molto spesso danno voce quando vedono qualcuno che conoscono, così come quando incontrano il proprietario, o gli ospiti di ritorno. Inoltre, alcuni rappresentanti della razza eseguono canzoni della torta, questo è un ululato divertente con straripamenti, che viene eseguito solo una volta in uno scoppio di benvenuto. Ma, dato il facile apprendimento del cane, se lo desideri, puoi addestrare queste maniere. Qualsiasi rumore eccessivo del Veshcorgi è un'anomalia, che di solito indica eventuali deviazioni nell'educazione nella prima infanzia. I Veshcorgi non sono considerati razze canine ad alto rischio, a differenza della maggior parte dei cani da pastore. Inoltre, i Veshcorgi possono essere caniguida. Quindi, a Nizminogorod per circa 10 anni ha prestato servizio come Veshcorgi Pembroke di nome Red. Manutenzione e cura. Veshcorgi si sentirà bene con cibo per cani di qualità. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla salute del tuo cane. L'acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre nella ciotola. Una buona spazzolatura almeno una volta alla settimana, dovrebbe mantenere il mantello del cardigan sano e di bell'aspetto. Tagliare il pelo dei piedi aiuta a ridurre la quantità di sporco che l'animale può portare in casa ogni giorno. Anche le unghie devono essere tagliate. Alcuni proprietari di animali domestici pensano erroneamente che dovrebbero tagliare i capelli al loro cane per l'estate. Se il cappotto del cardigan corrisponde alla razza, questo non è necessario. Il mantello giusto ha le caratteristiche necessarie per mantenere una corretta temperatura corporea in condizioni normali. Va notato, tuttavia, che un cane nero assorbirà più calore in una giornata di sole e occorre prestare attenzione per evitare la sovraesposizione al sole quando fa caldo. Il cardigan Vesh Korgi è noto per essere un cane altamente adattabile. Sia che tu voglia fare delle escursioni, o che tu voglia guardare la tv, il cardigan ti starà comunque comodo. I cardigan apprezzano la comunicazione regolare, motivo per cui passeggiare per il quartiere è importante per molte ragioni. Delizierà sia te che il tuo cane, e fornirà l'esercizio tanto necessario. Quando il tuo cardigan Vesh Korgi inizia improvvisamente a correre forte per casa e sul divano, questo è il suo modo di dire. Ehi maestro, ho davvero bisogno di divertirmi, giochiamo a palla. Gioca con il tuo cane quando è necessario, ma evita di saltare giù per le scale, e le spese generali in quanto ciò può ferire la schiena. Non si può mai sottolineare abbastanza che la socializzazione precoce e regolare è fondamentale per sviluppare un cardigan felice e sano. Presenta con attenzione il tuo cucciolo a una varietà di persone, luoghi e situazioni. Questo processo richiede una vita, ma un cane ben socializzato dà ottimi risultati. Vai a una sessione di addestramento, e consenti a tutti i membri della famiglia di partecipare alla socializzazione del cane. Non tollerare comportamenti inappropriati e non esitare a cercare l'aiuto di un trainer qualificato se c'è un problema che non puoi risolvere. Un piccolo sforzo all'inizio ti ricompenserà con un cane che tu e tutti quelli che la incontrano adorerai. Salute. Il vescorgi cardigan è generalmente una razza molto sana e gli allevatori responsabili esamineranno le loro mandrie per condizioni come la displasia dell'anca, la trofia progressiva della retina, e la mielopatia degenerativa. E, come con qualsiasi cane lungo e corto, ci sono potenziali problemi alla schiena di cui essere consapevoli. Non lasciare che il cardigan salti fuori dal letto o dal divano, anche le scale possono essere pericolose. Al primo segno di malattia o disagio, contatta immediatamente il veterinario. Prima viene trovato il problema, più veloce sarà il recupero. Prezzo e come acquistare correttamente. Vescorgi cardigan Vescorgi con un normale pedigree, tutte le vaccinazioni necessarie e lo stigma, per definizione, non possono essere economici. Dovrai abituarti al fatto che i prezzi per questa razza iniziano a 600 dollari e finiscono da qualche parte nella regione di 1500 dollari 2000. Linea di fondo. I cardigan Vescorgi sono razze di cani da pastore originarie del Galles. I Vescorgi includono. Il Vescorgi cardigan è una razza originaria della zona isolata del cardigan Shire. Secondo la versione più diffusa, gli antenati del cardigan gallese Corgi furono introdotti dai Celti durante lo sviluppo delle isole britanniche alla fine dell'età del bronzo. La prima menzione della razza nelle fonti scritte risale al X secolo. Il Pembroche Vescorgi è una razza allevata nel Pembrocheshire, presumibilmente da cani di origine fiamminga, e ha una storia che risale al XIII secolo.